Ciao Nico, finalmente! Su, sali, presto! Come stai? Come stai, beh? Adesso bene. Senti, ho bisogno di parlarti. Per me l'importante è che tu sia qui. Ecco, io... Cioè, io ho un lavoro da fare che dura da otto a dieci giorni. Io lo porto a termine e quando ho finito vengo qua.